Speriamo di poter attestare con oggi o comunque con i giorni a seguire una data importante per Augusta. Si è tristemente nota la nostra città per i tumori e per davvero molte patologie che la affliggono, però la presenza della Lilt ad Augusta potrebbe essere un momento importante. Sì, diciamo che così come abbiamo fatto in altre aree della nostra provincia, intendiamo capillarizzare quel lavoro che abbiamo mai messo in pratica dal 2004 ad adesso, sono passati dieci anni, mentre ogni parte provinciale, dall'area montana all'area sud, compresa l'area di città, hanno un proprio centro, è il momento proprio di evitare questo disagio territoriale praticamente alle donne, agli uomini di questo complesso nord che praticamente comprende proprio il triangolo Priolo-Melilli-Augusta. Lo facciamo praticamente un po' in sordina, cercando di portare a sensibilizzare il territorio attraverso i due eventi che abbiamo in programma proprio per l'inizio della settimana nazionale della prevenzione, che sappiamo è un evento di cartello nazionale che vedrà impegnato un po' tutte le sezioni provinciali d'Italia. Lo facciamo, dicevo, in punta di piedi, ma lo facciamo anche con una forte determinazione, proprio perché in questo territorio sono forti i bisogni sia di prevenzione, in senso di prevenzione primaria e secondaria, ma anche i bisogni di assistenza. Per cui andiamo a rinforzare le fila anche di un sistema sanitario, spesso oggetto di polemiche, in parte utili, in parte non utili. Comunque al di là di questo, insomma, diamo il nostro contributo, proprio capillarizzando quel lavoro di diagnosi precoce, che è tipico delle attività istituzionali della LILT. Qual è lo stato dell'arte? Cosa manca attualmente per cominciare? Ma diciamo che grazie anche ad un consenso che ho inaspettatamente trovato sul territorio attraverso proprio, diciamo, quelli che sono il tessuto connettivo della città, devo dire che abbiamo tutto, abbiamo tutto quello che serve. Forse servirebbe un po' più di entusiasmo da parte proprio degli augustani, che trovo un po' così, un po' sottotono, no? Un po' delusi probabilmente del passato. Però questo, diciamo, vuole essere un momento di inizio, quindi sicuramente troveremo una sede, ci sono già i primi rapporti istituzionali che vanno in porto, molti amici che si stanno adoperando per aiutarci, le associazioni, i club service, devo dire che, diciamo, un tessuto sociale molto attivo. Molte sono le interlocuzioni che in questo periodo sto affrontando, insieme proprio a quelli che sono i cardini della società civile, compreso praticamente, diciamo, i commissari della città, che, diciamo, hanno accolto favorevolmente questo tipo di iniziativa. La stessa cosa vale per Sua Eccellenza Pappalardo, attraverso domani mattina proprio incontrerò la congregazione proprio dei preti, insieme all'arciprede della città. Devo dire, i club service, che rappresentano poi anche, sono destinatari di un certo tipo di cultura, un certo tipo anche di storia della città, devo dire che da questo punto di vista, insomma, abbiamo, diciamo, troviamo tutte quelle componenti che ci possono essere utili per fare quello che abbiamo fatto già a Siracusa, lo possiamo riprodurre nella zona nord. Poi quello che è importante è proprio, ho trovato una componente giovanile, anche se, diciamo, leggermente scontento, leggermente delusa, però una bella componente giovanile, culturalmente molto, diciamo, avanzato da questo punto di vista. Già si è creato, in pochissimi giorni, si è creato uno zoccolo duro della Lilt, quindi questo è un fatto molto, molto importante e molto significativo. E da questo, insomma, inizieremo questo nostro percorso che spero, insomma, ci porti ad avere un centro che sia, io spero, il più bello, diciamo, di tutta la Sicilia. Quindi, ovviamente, questi sono gli auspici. Noi cerchiamo di fare però un po' di storia. Perché? Cos'è la Lilt? Leghe italiana lotta ai tumori. Cosa si può fare? Se ci si associa? Ecco, spieghiamo un po' come funziona questa associazione. Beh, intanto diciamo che la Lilt è un ente pubblico a livello nazionale, sta sotto un braccio operativo del Ministero e che poi vede le sue diramazioni in tutte e 106 le province. Io mi onoro di essere, diciamo, rappresentante della provincia di Siracusa, nonché anche il coordinatore regionale in questo momento. La Lilt vive praticamente dei singoli associati. Quindi, cosa si può fare? Si può fare intanto tanto. Abbiamo messo in piedi due grosse manifestazioni, il 21 e il 22, proprio creando una sinergia con la Sanremo Academy Production, che porterà due spettacoli, diciamo, di altissimo livello, per la prima volta in Sicilia. Insieme a questi due spettacoli abbiamo organizzato, per la prima volta in Sicilia, dopo 19 anni, un primo talent show legato praticamente alla Sanremo Promo Awards. E quindi capite bene che l'impegno, da questo punto di vista, era quello di mettere su un programma che servisse a, diciamo, a sensibilizzare le popolazioni del luogo. Quindi stiamo cercando di, attraverso questi eventi, proprio nella settimana della Nazionale della Prevenzione, di mettere in piedi un, diciamo, un bel momento che in parte sarà ludico, ma in parte praticamente anche culturale, anche per la tipologia, diciamo, dell'evento, che serva proprio per cesellare quest'unione e questo, diciamo, questo programma di fattività sul territorio. Quindi ricordiamo la data, ciao Lucio. Ciao Lucio, il 21 marzo, ore 21, è un secondo resital sempre prodotto dalla Sanremo Academy Production, che praticamente è nei migliori anni, e in cui avremo anche l'intervento di un comico siciliano, Giovanni Cacioppo, che sarà il secondo spettacolo, diciamo, che farà da chiosa poi a quello che sarà un po' tutto il programma LILTA.